Aymaville è una meta ottimale per i turisti o per chi vuole venirci a trovare. Si trova subito all'uscita dell'autostrada, è a 8 km di Aosta. Oltre alla storia che troviamo in Aymaville abbiamo poi il paesaggio predominante che è caratterizzato soprattutto dai vitigni che troviamo nella collina morenica chiamata Lecret e dove molti abitanti di Aymaville continuano a produrre vino. Oltre al paesaggio abbiamo poi i villaggi, quelli che si trovano più in alto che sono tutti villaggi da scoprire e da ammirare. Abbiamo Osen, abbiamo il Pondel dove abbiamo il famoso ponte Acquedotto poi abbiamo Vieille, Silvenuare, tutti piccoli paesini che hanno delle proprie caratteristiche molto importanti. Allora per quanto riguarda poi il paese di Osen è molto importante in quanto ogni anno viene organizzata la Sagra della Favò che è il piatto tipico di Osen fatto a base di fave soprattutto e che adesso andremo a scoprire come si cucina.